Buonasera Londra, come primo video dell'anno vi faccio vedere come un nutrizionista sportivo dovrebbe impostare una dieta per la definizione per arrivare in splendida forma quest'estate. Quindi vediamo quali sono i cinque step che dobbiamo seguire in questo video abbastanza lungo, metto sotto i capitoli così potete andare dove volete e che dire, iniziamo, scopriamolo! Il primo punto, quello fondamentale, più importante è trovare il nostro TDE. Se non so da dove sto partendo, non so dove arriverò. Quindi veramente se avete una dieta che non parte dal vostro TDE lasciate stare se volete arrivare a una composizione corporea da natural come Dio comanda. Allora, come si trova il TDE? Lo vediamo, ci sono diverse formule, ma anche se non sono corrette, non è importante. Poi capiamo perché. La formula che utilizziamo è quella dell'equivalente metabolico, ovvero prendiamo il nostro peso corporeo, se siamo fortemente in sovrappeso, obesi, possiamo utilizzare più o meno il peso che desideriamo raggiungere, il peso ideale. Comunque, un nostro normo peso lo moltiplichiamo, se siamo un uomo, per 1 e per 24. Quindi un uomo di 80 kg per 24 sono 1920 calorie, che è il suo metabolismo basale ipotetico. A questo, se ci alleniamo, aggiungiamo come minimo un 30%, quindi moltiplichiamo per 1,3 e arriviamo a 2.500 calorie. Quindi una persona che si allena, che ha uno stile di vita moderatamente attivo, fa almeno 8.000 passi al giorno, gli 80 kg dovrebbe stare come fa bisogno sulle 2.500 calorie. Poi, se abbiamo fatto bene le cose, se abbiamo migliorato nel tempo i nostri parametri allenanti, se abbiamo mangiato sempre correttamente senza fare diete farlocche, 2.500 potrebbe essere la base, possiamo aggiungere un 20%, arrivare a 3.000 calorie. Ci sono atleti, ma qui già parliamo di atleti, che a 80 kg mangiano in massa anche 3.500, 4.000 calorie. Però, prendiamo proprio quello più sfigato, 2.500 calorie. Nella donna, il calcolo del TDE, se guardiamo IMET, l'equivalente metabolico, non è per 1, ma avendo meno massa magra, per 0,9. Quindi una donna di 55 kg, per 0,9, per 24, il suo metabolismo basale sarà intorno al 1.200 calorie. Anche qui, se si allena, se è un attimo attiva, aggiungiamo almeno un 30%, moltiplichiamo quindi per 1,3, arriviamo a 1.700 calorie come minimo. Poi, se ha fatto le cose fatte bene, può arrivare a 2.000, 2.100, 2.200 calorie. Più uno è fortunato geneticamente e o ha fatto bene le cose, e più riesce a tenere una quota calorica più elevata senza ingrassare. Però, anche qui, teniamo le 1.700 calorie. Allora, perché vi dicevo che questo risultato ipotetico non è tanto importante? Perché adesso lo andiamo a testare. Nel senso che prendiamo le 2.500 calorie per un uomo di 80 kg, mangia per una settimana, l'unica cosa che deve fare è prendere quello che mangia, lo mette su un'app contacalorie, non deve superare le 2.500 calorie, dopo una settimana, 10 giorni, cosa è successo il suo peso? È rimasto standard? Ok, avevamo trovato il suo TDE. È ingrassato? Se con 2.500 calorie ingrassi allenandoti, c'è qualcosa che non va. Quindi, in questo caso, rivedrei un attimo all'allenamento perché probabilmente c'è qualcosa da ottimizzare. Se è dimagrito, ne stavi sumendo troppo poche, bisogna aumentarle fino a stabilizzarci. Idem per la ragazza. Quindi, non affidatevi pensando che la formula azzecca il vostro fabbisogno. Anche le apparecchiature, qui noi abbiamo una bia e la bia ti dice qual è il tuo metabolismo, ma è una stima anche quella. Quindi, veramente, qualunque dato qualcuno vi dà, testatelo, per vedere. Spendete in questi sei mesi di dieta 10 giorni per essere sicuri che partite col piede giusto, perché se veramente già qua stiamo sbagliando, la dieta non arriva a giugno sicuramente. Fine, primo step. Secondo passo, creo il mio deficit calorico, che è la cosa di base che mi servirà, 500 calorie per l'uomo, 350 calorie per la donna. L'uomo se aveva un TDE di 2500 calorie mangerà 2000 calorie, la donna se aveva un TDE di 1700 calorie mangerà 1350 calorie. Quindi la ragazza di 55 chili è già al limite, è già parecchio bassa. Però dalla formula siamo partiti così. Quindi la cosa è semplice, vedrete che lasciando stare i primi giorni in cui magari perdete peso molto velocemente, magari anche non perdete quel peso che vi aspettavate, quindi pensavate di dimagrire più velocemente, ma invece magari i primi giorni la dieta non è così facile da seguire, dall'altra parte non si vedono chissà che risultati e uno pensa, oh mio dio, no. Se il TDE era giusto, questo taglio calorico è quello che vi permette di soffrire durante la dieta, ma non eccessivamente, perché è una maratona, non sono 100 metri, quindi dovete sentire un po' la fame, soprattutto quando inizierete a intaccare il settling point, i primi chili magari si perdono molto facilmente, anzi ci sentiamo anche più energici, poi vedremo che le cose non sono così semplici. Però il deficit calorico è corretto se voi perdete ogni settimana dall'1 allo 0,5% del vostro peso corporeo, quindi un uomo di 80 chili, l'1% sono 800 grammi, lo 0,5 sono 400 grammi, se voi state ogni settimana riuscite a perdere 800 grammi, 400 grammi, va bene. È logico che poi mano a mano che scendete anche la velocità di dimagrimento via via scenderà col vostro peso. Tenete come riferimento le 1,5 e 0,5, quindi se state in questo range con un taglio calorico di 500 calorie l'uomo, 350 calorie le donne, andiamo avanti un sacco di settimane e un sacco di mesi, fine secondo step. Il terzo step ci serve per ottimizzare i risultati, il deficit calorico vi fa dimagrire a prescindere da cosa mangiate, a prescindere dai macronutrienti, se andiamo a vedere anche i macronutrienti e la qualità di quello che mangiamo, ancora meglio. Quindi partiamo dalle proteine, i grassi e i carboidrati, se non siete atleti agonisti potete stare liberi. L'importante è che avete il deficit, volete settarvi le proteine, le linee guida ci dicono 1,5, 2,5 durante la definizione. Questo è il range per chilo di peso corporeo o per chili di peso sul normo peso, il peso ideale. Sono usciti ultimamente degli studi che dicono che la quota proteica può essere ancora bassa, però una rondine non fa primavera, non è che esce fuori uno studio che dice 1,4 sufficiente, allora in automatico diventa sufficiente. La maggior parte delle linee guida ci dicono ancora un range di 1,5, 2,5 in un taglio calorico va bene per un atleta, per uno sportivo. Quindi deficit di 500 calorie e 350, 1,5, 2,5. Mediamente le donne hanno meno bisogno di proteine degli uomini, quindi non fate quell'errore che si vede in tantissime ragazze che mangiano pochissime calorie, soltanto proteine. Questo no, nel senso le proteine servono per preservare, perché hanno un effetto di risparmio sulla nostra massa magra, ma non devono essere utilizzate i fini energetici perché altrimenti le cose si complicano. Quindi dobbiamo trovare la quota che ci permette di avere anche un buon senso di sazietà, perché le proteine sono il macronutriente che saziano di più, stando in questo range, nel senso 1,5 come minimo, le donne non supererei i 2 grammi per chilo di peso corporeo. La qualità degli alimenti, come al solito, siccome la dieta deve essere sostenibile, è 80% cibo sano, 20% cibo libero. Volete mangiarvi la nutella durante la dieta? Basta che il deficit calorico rimane? Mangiatevi la nutella, mangiatevi il dolce, mangiatevi la pizza, mangiatevi la lasagna. È logico che le porzioni si andranno a ridurre. È così. Tante persone pensano che per poter sopportare una dieta bisogna mangiare per forza alimenti a medio-bassa densità energetica che riempiano lo stomaco. Purtroppo non è così. Cioè, nel senso, voi vi dovete abituare a quel deficit. Quando vi abituate, mediamente ci vuole qualche giorno o una settimana, se il deficit non è recessivo, a prescindere da quello che mangiate, riuscite a sopportare la dieta. È solo una questione di testa. Quindi non andate a rincorrere quelle diete che mangiate un sacco di verdura, un sacco di frutta, perché vi dovete riempire. Se siete a dieta, abituatevi ad avere meno cibo nell'apparato digerente. Fa parte del gioco, non ci sono escamotage. Vedrete che poi il vostro corpo, se il deficit non è eccessivo, lo accetta. Sentirete un po' di fame, ma non sarà quella fame eccessiva che vi fa fare gli sgarri, eccetera, eccetera. Anzi, diciamo che il punto 3 bis è che tutto quello che stiamo vedendo non ha bisogno di sgarri. Nel senso che se voi fate degli sgarri c'è qualcosa che non va nell'impostazione del vostro piano o siete semplicemente troppo stressati per stare a dieta. Perché se uno ha dei problemi a lavoro, in famiglia, dorme poco, eccetera, eccetera, si esaurisce la forza di volontà e la vogliamo ricaricare mangiando. Quindi purtroppo c'è anche questo aspetto qua psicologico. Non c'è bisogno dello sgarro? Assolutamente no. Volete fare una ricarica perché la sabato sera uscite e mi vi mangiate una pizza, state più leggeri nella prima parte della giornata. Io non consiglio sinceramente di fare dal lunedì al venerdì con meno di 500 calorie e poi nel weekend mangiare di più perché poi la dieta diventa troppo dura. Cioè, abituatevi a fare variazioni, cioè quello che conta non è il deficit giornaliero ma il deficit settimanale. Questo chi ci segue lo dovrebbe sapere. Ma è anche vero che appena tagliate più di 500 calorie sul vostro TDE la dieta diventa molto 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 impegnativa. Quindi è meglio piuttosto tagliare le calorie durante la giornata per dedicarle a un pasto piuttosto che tagliare le calorie durante la settimana e fare una dieta troppo dura che poi quando ricaricate il weekend non riuscite più a fermarvi e sgarrate. Quindi la dieta deve essere sostenibile tutti i giorni. Non fate gli eroi per una parte della giornata per poi rovinarvi nel weekend perché poi la dieta fallisce. Questo era il terzo punto. Quarto punto. Tutte le diete raggiungono un plateau o perché non riusciamo più a tenerle di testa o perché il deficit che avevamo creato via via si riduce perché anche il tessuto grasso ha un dispendio energetico. Perdiamo un po' di massa magra, ci muoviamo meno, adattamenti metabolici. L'abbiamo già visto in tanti altri video. Quindi a un certo punto, mediamente dopo 2-3 mesi che fate la dieta? Ipotizzo. A metà del percorso, dopo 4 mesi. Dipende quanto grasso in eccesso avevate. Più avevate grasso, più sarà facile perderlo gradualmente nel tempo, meno grasso avevate e più è facile raggiungere prima il plateau. A questo punto, break diet, in cui ritorniamo a fare una norma calorica. Normalmente dopo 3 mesi di dieta potremmo aver avuto un abbassamento del nostro fabbisogno di un 10%, se prima era 2500 calorie nell'uomo, magari adesso è 1400, 1350, quindi dipende. Comunque torno di nuovo al mio TDE, torno a rimangiare più o meno quello che mangiavo prima, cercando di vedere che il mio peso, magari un po' più di acqua, di glicogeno ci sta, ma che non ingrassi, e tengo questa break diet in cui smetto di stare a dieta senza ingrassare, e questo è il punto fondamentale senza ingrassare, per 3-6 settimane. Quindi posso fare un mese e mezzo, posso fare soltanto 3 settimane, a seconda di quanto mi sento a livello mentale ricaricato. Mediamente un mese, va bene, cioè nel senso se vi fate un mese in cui vi stabilizzate, metteteci la firma, nel senso non pensate di raggiungere subito la vostra forma ideale, perché purtroppo non funziona così, non è una cosa lineare, a un certo punto avrete bisogno di fare, non tutti, c'è chi prima, c'è chi dopo, però mediamente avrete bisogno di fare una pausa. Dopo questa pausa vi rimettete a dieta, tagliando un po' di più le calorie, perché abbiamo visto che magari abbiamo 100-150 calorie, ancora meno perché abbiamo avuto degli adattamenti, e con questo arriviamo quasi alla fine. Arriviamo a maggio, arriviamo agli inizi di giugno, e quando noi arriveremo, che vogliamo andare in spiaggia, facciamo una ricostruzione metabolica, un reset metabolico, chiamatelo come volete, in cui incominciamo a rimangiare leggermente di più, quanto di più dipende quanto velocemente volete salire. Calcolate che se voi avete un deficit calorico di 500 calorie, anche se aumentate le calorie, ma non lo superate, siete sempre, state sempre dimagrendo, quindi potrebbe essere, se lo voglio fare in due settimane, 250 calorie e ho rirraggiunto il mio TDE, se lo faccio di 100 calorie ci vorranno 5 settimane, ma questa risalita calorica graduale vi permette a di togliere gli ultimi chiletti e b, dall'altra parte, di rinutrire muscoli in modo da avere una forma che non sia da secco rachitico, ma che sia sicuramente più presentabile. Ovviamente tutto quello che stiamo vedendo è rivolto a una popolazione di sportivi, ma non di agonisti che devono salire su un palco di bodybuilding. Non stiamo affrontando una preparazione agonistica, stiamo affrontando una dieta di un nutrizionista sportivo per una persona che si allena e vuole fare bella figura in spiaggia. Ricapitolando il tutto, per concludere, i punti essenziali sono partire correttamente dal nostro TDE senza fare tagli né troppo piccoli, ma neanche eccessivi, altrimenti la dieta fallisce, e poi prenderci il nostro tempo, perché se non vogliamo andare a intaccare la massa magra abbiamo bisogno di fare le cose in modo graduale, abbiamo bisogno che il nostro senso della fame da 1 a 10 non superi mai il 6, il 7, cioè sia sempre qualcosa che io, sì, mi sto impegnando per fare, ma non è che mi sto stressando, oh mio Dio, penso tutto il giorno al cibo. Se voi state dietro e pensate tutto il giorno al cibo, questa cosa non è protraibile perché prima o poi fallirete. Quindi la sostenibilità, non è che lo diciamo solo noi, lo dicono tutti, è la cosa essenziale e proprio per questo mangiate anche i cibi che vi piacciono, nel senso non fate quelle diete da riso, pollo, broccoli, perché è una tortura inutile che non vi avvantaggia sui risultati, ma semplicemente vi dà dei paletti per cui poi quando non la seguirete più avrete un rebound e avrete l'effetto opposto. Invece se lo sentite come, tra virgolette, piacevole è sicuramente sei mesi di dieta con un taglio, una break diet all'interno in cui smettiamo, è qualcosa che una persona sana può sicuramente fare e può sicuramente dire, cavoli, non pensavo dopo sei mesi di avere una composizione corporea nettamente migliore, perché se si applicano queste cose vi posso assicurare che di risultati, di bei risultati, ne vedrete. Ecco, io vi ho detto tutto quello che c'era da sapere, in realtà non tutto perché qui abbiamo oltre 500 pagine su queste cose, però se dovevo semplificare il tutto e metterlo in un video, penso che con questi cinque punti un po' l'ho fatto. Se poi volete fare le cose ancora meglio, se volete essere padroni dei concetti e non schiavi delle diete, Project Nutrition è il libro di riferimento in Italia per chi vuole una miglior composizione corporea, una miglior salute, una miglior conoscenza. Io vi ringrazio e buon anno ancora! Grazie!